Ok, siamo live. Buongiorno a Spionanti Fotografi, benvenuti a questa nuova puntata di Convivium, questo mega progetto online di interviste che è una sorta di enciclopedia multimediale e ogni giorno mettiamo insomma un nuovo tassello. Oggi ho il piacere enorme di avere qui Enea Colombi. Buongiorno e benvenuto a Convivium. Grazie mille, grazie mille, assolutamente. Tanto ti ringrazio. Come stai? Tutto bene, dai, tutto bene. Si sta in casa, ci si gode un po' questa quarantena e questo silenzio, però si va avanti per adesso, dai. Io molto bene, devo dire, molto bene, molto preso da questo, insomma, da questo mega progetto, più tante altre cosine che riesco a fare da casa e anche se per me è stato, insomma, come tutti, ovviamente, inaspettato e un momento per reinventarsi, ecco, in qualche modo. Allora, io ti ho conosciuto perché, allora, in realtà sono entrato in contatto con te diverse volte, allora, tante volte senza saperlo, cioè guardavo i tuoi prodotti ma non sapevo che li avessi fatti tu, no? Ok. Poi, una volta ho fatto tipo un'indagine perché ho detto, ah, ma qua mi piace un sacco questo lavoro, non lo so, non ho andato a vedere e ho trovato che era tuo. E allora da lì ho iniziato a vederti un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù, insomma, ovunque. E poi, non contento, una volta stavo guardando video di Torinbert. Ok. E ti vedo anche io e dico, ma allora che roba strana è? Signore del destino, ci siamo attratti, tipo. Esatto, esatto. Allora ho detto, no, dai, lo invito qui a Convivium perché in realtà tu non fai il fotografo. No. Quindi, e questo è un canale che parla prettamente di fotografia, ma in realtà, con questa intervista volevo, come dire, parlare di, visto che tu fai tutt'altro, fai il regista, giusto? Mhm. Ad oggi, poi parli, poi spieghi tu bene cosa fai. Assolutamente. E come sei arrivato. Ecco, oggi volevo, come dire, parlare di, comunque il tuo percorso che secondo me è super interessante per chiunque, perché poi ci sono ovviamente tanti parallelismi anche col mondo della fotografia, e poi vedere un po' come lo studiare fotografia, che comunque so che hai fatto, abbia influenzato il tuo lavoro, quali sono, come dire, i punti di contatto e invece le totali differenze tra i due mondi, che secondo me è un argomento. Ok. Esatto, nel senso che ho un percorso di studio un po' frammentato, nel senso che io ho sempre, sono sempre stato super appassionato di fotografia, mio padre mi aveva sempre portato in mezzo ai musei, galleria d'arte, quindi un po' per simbiosi ci sono andato a contatto con questo mondo qua. Poi ho finito il liceo, dovevo decidere un po' che strada percorrere, e conta che avevo già iniziato a girare, clicco il video intorno all'età di 14 anni, i primi video un po' video musicali, spot per negozietti, comunque provavo un po' a girare, a darmi usare l'ambiente. Poi gira, gira e gira, sono entrato in contatto con i primi artisti tipici di provincia, magari qualcuno di Milano, Torino, il nome poi si è espanso, e ho finito il liceo, quindi ho detto, va bene, cosa faccio? Inizio un percorso di studi, un'università, inizio a lavorare, e quindi da qua mi si sono aperte diverse strade. La prima è stata quella di percorrere questo percorso di studi insieme a Tony con Laika, è stato un corso su selezione, è durato sei mesi, sulla fashion photography, quindi fotografia di moda, l'approccio, soprattutto era un approccio diverso dai soliti corsi, perché non si parlava di tecnica, ma era di più un allenare l'occhio, allenare la mente, sia al ritratto di moda che al prodotto, quindi un approccio molto diverso rispetto alle solite cose. Parallelamente portavo sempre avanti la passione per il cinema, le immagini e il movimento, studiando direzione della fotografia, ho seguito vari workshop, per esempio alcuni corsi di Italo Petriccione, di Castiglioni, quindi direttore della fotografia storici italiani, dalla quale ho preso un po' di tecniche più su commercial e narrativa. Quindi ho avuto queste tre infarinature, fashion, narrativa e commercial. Tutto questo poi è sfocciato nella mia sfrenata passione per la regia, perché sentivo che avevo qualcosa da dire in più, invece di stare sempre e solamente curare il lato tecnico, magari della luce o quant'altro, e mi sono buttato più sulla regia di videoclip musicali. Ovviamente il lavoro poi del regista è un po' quello del direttore d'orchestra, perché hai una troupe da dirigere, e quindi la cosa bella è che coordini varie arti. E l'ho sentito particolarmente mio, dopodiché sono riuscito a girare il primo video in major, videoclip musicali, intorno ai 18-19 anni, quindi con Universal, e da lì un po' la mia carriera ha preso un po' il volo in questo mondo nascosto di videoclip, e continuando poi a lavorare per tutte le mie attività, fino ad arrivare poi, negli ultimi anni, a lavorare dentro ai commercial, a DV online, social, e vari contenuti poi per brand nazionali e internazionali. Quindi questo è stato un po' il mio percorso fino ad oggi. Che poi, allora, il mondo della musica e dei videoclip musicali, in realtà tu lo citi come nascosto, no? Anch'io ho iniziato così. Giuro. Cioè, allora, in realtà, prima 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 ho iniziato con la fotografia, poi c'era un mio amico che, io avevo un piccolo studio di registrazione, perché ho cantato per tanti anni con un amico del bunker sotto casa, avevo fatto uno studio, in cui passavano diversi artisti di Varese, e comunque Varese era staccata a Milano, e una realtà un po' a sé stante. E allora, sai, per quelli di Varese era difficile muoversi su Milano, perché comunque c'erano un sacco di spese tra muoversi, portare su e giù, eccetera. E allora spesso preferivano anche raccontare proprio la loro città a molti, e quindi ricercavano gente della zona, no? E allora da lì poi ho iniziato anche io a fare qualche video musicale. Però devo dire che ad oggi il livello, soprattutto di certi artisti, si è alzato tantissimo nel video, no? E anche le produzioni che prima una volta erano un po' più semplici, appunto, caserecce, oggi invece sempre più si spingono nel diventare sempre più professionali, fino a diventare vere e proprie insomma, produzioni interessanti e anche molto belle esteticamente, no? Io ho visto alcuni tuoi video e ho detto, wow, cioè, pazzesco. Ok, ma ce n'è uno in particolare che ti è piaciuto, che ti ricordi, magari non il titolo, delle immagini. Aspetta, ma per esempio ho visto alcuni di Ernia, che sono molto belli, fotograficamente la fotografia di quelli, adesso non ricordo le canzoni perché... Certo, avrei visto Simba, probabilmente, di Ernia, quello nella casa di Mollino. Sì, esatto, uno è quello, esattamente, sì. Ok. Ma ti dico, ho detto che il mondo è nascosto perché ci sono tantissimi ragazzi che poi mi scrivono perché mi consigli e quant'altro e vedo che tutti hanno lo stesso ostacolo che è... hanno due ostacoli principali, che il primo è come passare da videomaker poi a regia e quindi dirigere una troupe e il secondo è proprio come farsi notare. Quindi dico nascosto perché forse sei anni fa, sette anni fa, era... se tu facevi videomaking a un certo livello la voce girava tantissimo. Adesso è un lavoro che davvero in tanti possono fare e quindi il mercato è quasi saturo e poi c'è questa tendenza all'uniformarsi perché comunque adesso YouTube è un po' anche il posto in cui ho iniziato io imparando. Ora c'è molto la tendenza di emulare un certo stile e questa emulazione poi porta a un appiattimento generale dei contenuti perché in tanti seguendo tutorial si crea un sottobosco di persone magari molto però tecnicamente ma non esce poi l'artista da questo... l'artista in senso come regista non come musicista in questo caso si ha questo appiattimento e quindi la scelta è quasi nulla nel senso che non si riesce più secondo me a emergere magari come si poteva prima. Quindi ad oggi la cosa importante è sicuramente non farsi prendere troppo dai tecnicismi o piuttosto emulare una tecnica perché tanto sono i mille che possono farlo e probabilmente lo fanno anche meglio di te. Quindi per questo io dico che sia un po' nascosto perché c'è poca ricerca in Italia anche da poi parte di measure e quant'altro. E credi che... Tu come hai fatto a fare questo scavallo? Cioè come hai fatto a passare da videomaker a regista? Allora, diciamo che il mio passato poi da videomaker è strano perché lavorando con tanti artisti poi di varia musica sono arrivato poi al rap e poi tramite il rap e tramite vari artisti mi sono espresso in un modo che non era il linguaggio del rap. Io non ascoltavo rap prima di fare video rap per dirti o comunque hip hop. quindi ho portato una visione che probabilmente era molto molto fresca e un approccio che in Italia non si aveva in quel momento lì. Quindi anche porre molto gli artisti in paesaggi naturali poi modificati VFX, dei montaggi una cura del colore che prima probabilmente non si curava troppo. e questa cosa qua ho notato che era nuova nel senso che ci sono tanti videomaker che ad oggi magari emulano ancora questo stile. Questa cosa qua mi fa molto onore però da un certo punto di vista sono cose che vanno lasciate indietro nel senso che grazie poi a questo stile mi sono fatto notare e dopo che ti fai notare che c'è una richiesta si genera appunto un bisogno magari nella parte di produzione e di measure i budget comunque si alzano alzandosi il budget puoi permettere di chiamare casa di produzione e dopo che tu ti puoi permettere una casa di produzione allora devi un po' mettere da parte il tuo lato one man show e dedicarti proprio alla regia. Io poi ad oggi faccio sia regia che direzione della fotografia nei miei video quindi non ho mai poi abbandonato la parte fotografica infatti tante persone io stesso poi non riesco a definire ancora il mio stile ma sono più le persone che definiscono il mio distino nel senso che tutti mi dicono ah ok quello è un tuo video però io stesso non lo riconosco quindi c'è un qualcosa che mi rappresenta e probabilmente anche il modo in cui tratto immagini nel senso che molti mi dicono che sembrano fotografie in movimento un approccio molto fotografico con la ripresa ci sono poi vari aspetti della fotografia che hanno intaccato il mio modo di fare regia ecco sì perché beh io per esempio da fotografo quando ho visto appunto per esempio adesso non so mi viene in mente quello ma ne ho visti anche diversi altri quello che mi ha colpito è stata proprio la fotografia bella cioè curata che hai avuto al di là di altre magari tecnicismi che io non essendo videomaker posso non percepire no però ho visto proprio questa questa occhio attento alla fotografia e mi ha poi stupito quando ti ho visto nel workshop di Torinberto no perché proprio infatti ho detto ma è lo stesso poi sì eri lo stesso perché eri tu però mi sono chiesto come mai e allora pensavo che avessi fatto come dire cioè che in parallelo facessi anche foto e invece no mi hai detto che proprio no cioè hai preso quell'esperienza semplicemente per studiare fotografia esatto nel senso che più che studiare la fotografia studiare l'approccio a un mondo che per me a me è sempre interessante come tutto il mondo fashion mi ha sempre attratto tantissimo io poi la parte fotografica dello scatto della macchina fotografica in sé lo ho sempre portato avanti ma più per una passione nel senso che non ho mai fatto nulla per lavoro non ci sono stati lavori commissionati che non ho mai accettato perché non mi considero un fotografo e non penso di portare di poter portare un lavoro professionale in fotografia quindi non voglio vendermi per tale quindi l'ho sempre vista più come una passione e sicuramente quel corso lì mi ha servito tantissimo perché come ti dicevo prima non era una cosa tecnica ma era una cosa molto teorica soprattutto di approccio al mondo della moda partendo poi dalla storia poi ci interfacciamo con tanti artisti editori e quindi è stimolante quando senti persone che nella vita riescono effettivamente a fare qualcosa prendi spunto prendi ispirazione quindi sicuramente a livello di mentalità ti mi ha fatto fare uno step successivo beh poi lavorare con Tony penso che non sia male affatto è uno che assolutamente nel senso che poi il suo modo di insegnare è tutto suo ha un modo suo ti fa entrare le cose in testa e è tutto diverso nel senso che poi appunto da quel corso la mia testa è stata ribaltata svuotata e riempita con nuove informazioni quindi è stato un reset che mi ha fatto capire bene dove volesse andare a parare poi con il mio lavoro ok per chi non sapesse qual è la differenza tra DOP o comunque diciamo il videomaker classico e un regista cioè quali sono gli aspetti in più che una persona deve avere anche per affrontare questo tipo di lavoro no? perché credo che al di là delle cose tecniche ci siano anche tante come dire qualità relazionali che devi sviluppare in qualche modo no? allora assolutamente nel senso che il videomaker è una figura che è nata relativamente da poco arrivati in Italia saranno una decina d'anni probabilmente che è riconosciuta come un lavoro poi sicuramente c'era anche prima un videomaker innanzitutto fa quasi tutto da solo nel senso parte camera in mano gira monta color e delivery in più delle volte così poi ovviamente ha degli aiuti magari c'è l'aiuto c'è il ragazzo che dà una mano sul set si fa dare una mano magari da un elettricista per delle luci specifiche però diciamo che il videomaker in sé è un po' il responsabile di tutto quindi tu prendi questa persona qua lavora per te e ti consegnerà il video finito il lavoro del regista è un lavoro un po' più articolato nel senso che sicuramente per farlo devi avere coscienza del mezzo del budget e soprattutto conoscere come una troupe si muove e conoscere le varie gerarchie perché comunque tu da regista ti ritroverai ad avere un operatore un macchinista un elettricista un aiuto elettrico un puller uno scenografo un line producer ci sono tante figure che vanno a creare una troupe e devi capire bene ogni persona qual è il suo ruolo perché comunque poi tu devi amministrarla e tu sei responsabile di questa troupe sicuramente a livello qualitativo un regista poi accederà a budget più grandi accederà a gare creative sarà in contatto direttamente con le agenzie con i clienti farà i brief su brief direttori creativi quindi è più un lavoro corale la regia non si parla più di video making perché è proprio un lavoro corale nel quale ci sono tante persone che lavorano ognuno dal suo e tu da regista devi un po' imparare a amministrare tutti questi ruoli soprattutto capire anche le potenzialità di ognuno perché poi sei tu che ti fai la tua troupe devi sapere te quale scenografo è meglio di un altro per questo lavoro o quale elettricista è meglio di un altro per questo lavoro e quindi è proprio un insieme di persone che lavora in questa troupe per portare un lavoro professionale al cliente perché tu non lavori sempre con la stessa troupe ma ogni tanto in base alle esigenze chiami questo o quella persona allora diciamo che con la troupe lavoro quasi sempre con le stesse persone per i videoclip e invece per i commercial dipende davvero da tantissime cose nel senso che appunto devi lavorare con un brand di scarpe per dirti e non hai bisogno di uno scenografo che ti costruisca cose particolari ma prima che altro un set designer che ti collochi piccole cose allora lì davvero valuti in base al progetto che stai affrontando quale persona usare però ad esempio gli operatori gli elettricisti i puller sul set sono sempre gli stessi quindi ho una mia piccola troupe formata e poi ci sono varie maestranze che vanno poi a comporre diciamo le cose aggiuntive in base poi al progetto ok chiaro e praticamente il regista diciamo si occupa anche dello storytelling di quello che andrete a fare sostanzialmente allora non sempre nel senso che sicuramente lo storytelling inteso come magari i movimenti di camera inquadrature espressione degli attori quello sì lo storytelling inteso come creatività quindi per dirti un trattamento la storia che c'è dietro non sempre lo decide il regista ma spesso lo decide per un per un commercial ti sto dicendo dove ci sono budget più alti lo decide un direttore artistico insieme ad un copywriter perché le agenzie si affidano a queste figure creative e queste figure creative poi decideranno quale regista interpreterà meglio la loro visione poi ci sono i vari casi nella quale invece l'agenzia contata direttamente il regista perché gli piace la sua visione gli piace il modo in cui racconta e quindi è totalmente carta bianca nei videoclipi invece questa figura non esiste nel senso che dirigo io al 100% tutto lo storytelling la creatività viene da me al 100% non sempre carta bianca perché comunque la tua committenza poi un artista tu non puoi fare quello che vuoi ma comunque devi un po' secondare anche le sue preferenze a volte mi do una carta bianca quindi ci sono davvero tanti modi di lavorare che non c'è una risposta univoca per tutto ah certo credo che per esempio non so anche le location no? cioè è difficile come dire fare una ricerca dettagliata di tante location diverse da offrire al momento giusto alla persona che ha bisogno di fare un determinato video per esempio assoluto per esempio nel video di Ernia la location l'avete decisa insieme c'era già no la location gliel'ho proposta io perché ero appassionato di Mollino ed è una casa che si trova a Torino e quindi per me era proprio un onore andare a girare in questa casa lui è impazzito quando l'ha vista quindi in quel caso lui è stato io a proporgela però appunto ci sono vari modi di lavorare sulle location nel senso che ci sono tre casi in verità il primo quando sono io che la propongo da nulla e quindi so già che per quell'artista voglio questa location perché andrebbe davvero ad aiutare lo svolgimento della storia e l'impatto visivo il secondo caso nel quale magari c'è un'idea magari ben articolata e tu hai bisogno di tante location quindi non so hai bisogno della via alberata hai bisogno della casa di provincia hai bisogno del loft allora io in quel caso lì contatto il mio location manager lui va a fare un po' di scouting manda foto e da lì poi parte lo spoglio della sceneggiatura dello script e lui magari per ogni scena che ho scritto mi manda una serie di immagini e mi propone quindi queste location la terza invece addirittura è quando il location manager mi propone una location speciale mi dice guarda Enea c'è questa casa di questa signora che non apre nessuno ce l'abbiamo solamente noi scrivici un video intorno quindi il rapporto con i luoghi deriva un po' da queste tre esigenze che si possono creare ok chiarissimo chiarissimo è interessante come dire tu si è passato appunto da videomaker quindi a far tutto da solo a poi fare questa cosa di regia con tante persone e sei passato in istantanea cioè è stato proprio un click immediato perché ti è arrivata una commessa data la svolta che hai detto prima e quindi dal giorno dal lunedì al martedì è stata una cosa di salto così oppure è stato ogni volta aggiungevi un pezzo un pezzo un pezzo finché sei arrivato ad essere un regista vero e proprio con una trucca allora dovrei fare un po' di passaggi indietro nel senso che sicuramente sono stati tanti piccoli video da indipendenti da videomaker magari i due più famosi forse che ho fatto da videomaker sono Malibu di Vegas Jones e Ipernova di Mr. Ray ok sono gli ultimi due video che ho fatto da videomaker completamente da solo di cui ho una giornata a Los Angeles che è Malibu e dopo quel video lì mi ricordo che Universal mi chiamò e mi propose di fare il video di Nero Bali di Lodi e Michele Bravi ok e sono tutti i video ah perfetto e sono tanti sono i video che poi soprattutto Nero Bali è un video che è stato super acclamato per una serie di ragioni per l'amicizia che c'era dentro era un modo di narrare una vita estiva diversa nel senso che prima le testive erano molto latineggianti molto spiagge corpi quasi perfetti quindi c'erano vari messaggi che siamo andati un po' ad strutturare quindi mettendo dentro comparse diverse location diverse siamo invece della spiaggia del mare eravamo sulla spiaggia di un fiume inquinato praticamente eravamo sul po' quindi ambienti urbani abbiamo un po' destrutturato cioè la tipa che sputa abbiamo proposto un po' di immagini che andavano a spaccare questo alone di perbenismo politically friendly della vita estiva ed è stato super acclamato ha fatto un sacco di views e diciamo che appunto quel video lì è stato uno dei primi video che ho girato con la produzione perché appunto dopo che ti propongono un budget tu da solo non riesci a gestirlo poi prima di questo video c'era anche un piccolo passaggio in mezzo che era Barracuda dei Bundabash insieme a Jake LaFuria e Fibra e questo era un video che avevamo un budget discreto che avevamo girato sempre con una produzione perché erano comunque quattro artisti grossi loro nel video non ci sono e anche questo video è stata proposta una narrativa unconventional nel senso che sono solo ragazzini i bambini sono i protagonisti e per la prima volta abbiamo aggiunto abbiamo esplorato un po' questo affetto molto naturale e intimo infatti c'è la scena dei ragazzi che entrano alla piscina questi bambini di 10-12 anni che si spogliano e restano in intimo e fanno delle scene in acqua e ho sempre proposto un po' delle immagini che forse prima nei videoclip in Italia non venivano troppo utilizzate e penso che sia stata un po' questa qua la l'amo che ho lanciato che poi è stato preso e hanno poi lanciato questa estetica che hanno apprezzato particolarmente e da lì poi ho sempre lavorato con le produzioni quindi diciamo che questi due video iniziali quindi Malibu e Ipernova tantissime utilizzazioni hanno attirato l'attenzione di queste measure ho iniziato e poi quindi Bundabash più Elodie e Michele Bravi e da lì poi ho sempre lavorato solamente con le produzioni è stata una cosa graduale ovviamente è la prima volta che hai dovuto gestire il budget come te la sei vista? è difficile nel senso che appunto anche qua di avere fiducia nella produzione con cui lavori nel senso che in un tool budget poi di avere delle persone che te lo gestiscano anche nel senso che non sono io regista che pago le varie maestranze pago la location o quant'altro questo è il compito della produzione e tu quando metti in mano un budget a una produzione devi avere la fiducia completa che questo budget poi venga investito nel miglior modo possibile e che non ci siano dei soldi buttati via perché comunque magari c'è una location che ti costa 10 però la produzione la fa pagare 15 quindi c'è bisogno di una fiducia reciproca sempre detto che poi la regia è sempre uno scambio di cose dai per ricevere e ricevi poi per dare indietro ok scusa fammi capire bene perché io questo mondo non lo conosco certo cioè allora ipotizziamo io etichetta ti chiamo e ti dico senti io vorrei che tu facessi da regista un mio video si ok cosa ti dico ti dico tipo il budget è questo si trova una produzione no cioè ti dico il budget è questo ok non so come funziona non so come funziona allora ci sono vari modi ogni regista la gestisce come vuole poi dipende anche dall'attività che hai nel senso che ci sono registi che hanno le proprie case di produzione quindi si aprono loro le srl e allora lì loro gestiscono il budget prendono le varie maestranze e gestiscono loro io ho una mia partita io lavoro da libro professionista ok quindi non mi è un salmo no? che ha la sua sì il salmo dovrebbe avere una produzione esatto ok però appunto nel senso non penso sia lui poi a dirige lui sarà solamente in alto e quindi nel senso io da regista libro professionista vado da una produzione e dico ok ci sono questi soldi qua c'è da fare questo video tutta la parte di contrattualistica economica la gestirà la produzione io ovviamente tratterrò dirò la produzione la guarda la mia fee per questo lavoro è la seguente quindi viene scalato dal budget questa cifra e con il restante si va a creare il video ok chiaro e da lì quindi hai 100 da questi 100 dovrai prenderti le varie persone che ti servono non so sai che devi fare un video tutto in studio però devi ricreare una foresta tu sai che dovrai investire tutto in scenografia e luci mentre magari altre persone non servono ogni ogni lavoro può essere quello che ti cerca la location non ti serve ad esempio esatto facevo il discorso della fiducia perché io poi nei videoclip ho sempre lavorato con Borotalco che era una delle produzioni più importanti in Italia di videoclip e poi si è proprio creato un rapporto di amicizia reciproca nel senso che c'è stimi innanzitutto e quando penso che questa è una cosa fondamentale nel mio lavoro riuscire ad avere un rapporto soprattutto perché un regista oltre poi al budget che porta porta anche con sé una sua immagine e visione che è sempre difficile che esca se la produzione non ti conosce perché se ad esempio dico ok ho bisogno di queste tipologie di attori io ad esempio lavoro con un casting director che sa benissimo quale tipologie di attori voglio cioè non devo proprio spiegare di nulla lui legge lo script e sa già quale voglio ma se un domani dovessi cambiare casting director lavorare con altra gente sono sicuro che se leggessi uno script mio non mi proporrebbero le stesse cose quindi interessantissimo ma finisci scusa quindi nel senso è proprio una cosa di fiducia non io penso che poi un regista riesce a dare al massimo dopo tanti tentativi con varie persone diverse mi è capitato anche di appunto avere una troupe con la quale non mi trovassi per nulla quindi lì ed è questo un po' il lavoro rischioso del regista rispetto al videomaker nel senso che il videomaker se hai da solo basta te la puoi cavare non so hai di fare un video magari te lo fai in un giorno però poi puoi recuperare gli altri giorni tanto sei più con la tua camera quando fai regia invece tu hai un giorno per girare massimo due la troupe è quella poi basta non puoi più recuperare i giorni dopo tra una settimana non puoi più fare del b-roll quindi devi essere proprio focus al 100% e non c'è possibilità poi di sbaglio o troppa improvvisazione sul set per questo che dico che è fondamentale poi avere persone fidate che lavorino con te e tutte queste persone come le trovate? per esempio lo scouting allora diciamo che ogni produzione ogni produzione ha un loro database con una serie di persone fidate con cui lavorano tante volte sono loro loro stessi a propormi queste figure qua e quindi mi dicono guarda ti va di lavorare con lui io guardo un po' magari il portfolio il curriculum e quant'altro e dico ok ci può stare altre volte magari sono io a proporle quindi non so magari su Instagram magari vedo nei creati su Vimeo c'è qualche scenografo molto interessante che mi interessa e dico contattatelo tiriamolo in mezzo per un lavoro cioè uno che fa degli effetti speciali interessanti contattiamolo quindi a volte sono loro a volte sono io che porto proprio delle maestranze diverse che possano dare un valore aggiuntivo tipo mi ricordo in particolare un lavoro di Mekna che era un drink o due non so se l'hai mai visto ne ho visti i versi di Mekna ma questa canzone non mi viene in mente è quello dove ci sono tutte queste ragazze con dei drink in mano su fondali pastello le ragazze che fanno molto sincronizzato non ce l'ho presente avevo comunque lavorato con uno scenografo molto molto bravo secondo me che aveva una sua visione oltre che magari a secondare il tuo il tuo desiderio portava proprio degli oggetti in più in scena che semmai hanno fatto proprio la differenza quindi c'era proprio un suo gusto personale e e sono esperienze sempre stimolanti perché la cosa bella della regia è che poi la regia in sé fa parte della settima arte il cinema come lo vogliono chiamare però è un insieme di tante altre arti quindi l'arte della sceneggiatura della scrittura del doppiaggio dello scenografo quindi sono tante maestranze che lavorando insieme creano poi questa quest'opera ovviamente nel cinema tantissimo poi nei videoclip non hai mai la possibilità di fare un lavoro così approfondito hai tre minuti quindi sì il regista fa stavo pensando e beh il regista effettivamente fa la regia e poi c'è è questa la parola esattamente questo cioè gestisce tutti sostanzialmente quindi esatto è come dire si accolla si accolla il lavoro di tutti e deve far cioè a fine giornata se qualcuno ha sbagliato non è colpa di chi ha sbagliato ma è colpa del regista che non è stato attento nell'accorgersi che quella persona stava sbagliando esatto chiaramente chiaramente poi ci sono cose che vanno fuori anche dalla responsabilità del regista perché metti che un elettricista o comunque fanno un carico di luci sbagliato portano delle lampadine esplose portano dell'attrezzatura sbagliata fanno un carico che magari non ci fanno troppo caso lì non è poi colpa del regista lì magari è più colpa di chi doveva occuparsene di fare il controllo qualità del materiale ci sono cose tecniche che poi vanno fuori un po' da responsabilità diciamo che però tutto quello che è il prodotto artistico finale sì è responsabilità poi del regista ok certo quindi vabbè sì al di là del fatto che io sono videomaker arrivo senza macchina fotografica che questo tu non puoi controllarlo esatto però tutto il resto cioè diciamo sul risultato finale ecco ha come dire mette la firma lui e di conseguenza insomma qualsiasi cosa non dovesse andare responsabilità sua assolutamente super stressante deve essere fare il regista allora è stressante però ti dico che la cosa più la cosa più importante da tenere a mente è che se tu lavori bene in preproduzione quindi quando ti arriva il il progetto quindi dalla scrittura poi fino alla realizzazione ci sarà quel momento super stressante che c'hai mille telefonate tutti i giorni continui a chiamare però se tu lavori bene in questa fase qua quindi hai una visione completa sai già cosa andare a girare tu il set non lo senti nemmeno non senti la pressione sul set perché sai di aver lavorato bene prima infatti io quando quando ricevo poche telefonate sono preoccupato perché dico c'è cosa che non quadra invece quando mi riempiono e mi distruggono la testa i giorni prima dico ok perfetto posso stare tranquillo perché sui stati andrà tutto bene interessante questo quindi più più chiamate ricevi più vuol dire che sta andando tutto poi poi io sono fatto così perché magari sono abbastanza apprensivo o puntiglioso su certe cose quindi voglio avere sempre gli aggiornamenti voglio sapere bene se si va tutto bene se è tutto ok si manca qualcosa altre persone invece lavorano in modo diverso magari preferiscono dare delle indicazioni avere pochi aggiornamenti e quant'altro io ho bisogno di sentire un po' di più la pressione ok chiaro tra mi sembra come dire il lavoro del regista un lavoro fatto per chi ama le cose fatte bene cioè che deve essere molto molto attento ecco lasciando poche cose al caso sì sicuramente è così nel senso che tu non puoi fare secondo me il regista se non non riesci ad avere una visione globale del lavoro e soprattutto se non ci tieni in primis alla riuscita perfetta ovviamente secondo me su certi lavori è difficile arrivare al risultato che ti è riposto prima di iniziare questo lavoro perché magari succedono una serie di cose durante il set anche che non sono responsabilità tua magari per dirti arriva un attore in ritardo un attore non ti fa bene la scena quel giorno inizia a piovere una luce non entra bene in una scena ci sono tante piccole cose che poi tante tante piccole cose che poi sommate non non rendono il lavoro appagante magari non si avvicinano la tua visione iniziale quello può succedere pensavo che a questo per esempio una persona cioè un regista difficilmente può lavorare tante volte oppure sbaglio non lo so però credo tante volte con per esempio gli stessi attori allora questa è interessante come domanda perché registi poi cinematografici lo fanno molto certo sì sul cinema sì magari nel videoclip no in effetti questa cosa qua pochi registi la fanno ma penso che ci sia un motivo nel senso che il motivo principale penso che sia il seguente che un attore con la sua faccia porta una certa immagine a un artista nel senso che non è scontato innanzitutto che un artista voglia attori nel suo video però nel caso li volesse le facce di questi attori e i compiti che avranno questi attori rappresenteranno in un certo senso l'immagine del regista quindi saranno un po' una riflessione dell'immagine che ha dell'artista scusami non del regista quindi se tu per esempio usi un viso molto particolare per il videoclip di un artista è difficile poi riproporre lo stesso attore per il videoclip di un altro artista hai capito? perché richiamerà magari sempre l'immagine dell'altro certo sì e magari anche in contrapposizione peraltro esatto esatto hai capito quindi è più facile trovare uno stesso attore nello stesso nella stessa linea narrativa magari di un di un artista quindi adesso non so farti esempi precisi però magari artisti che hanno fatto tre video magari una trilogia di video storytelling nella quale c'è sempre un attore protagonista ed è sempre lo stesso questo sicuramente e no vabbè scusami non volevo interroberlo no no era finito ok ok e nelle grandi produzioni no quanto è importante il parere dell'artista e quanto invece di tutto l'entourage che ha dietro allora purtroppo tanto nel senso che più la produzione è grossa e più l'artista avrà voce in capitolo ok nel senso che se tu vuoi lavorare con un artista pop molto importante che ci tiene particolarmente alla sua immagine ci saranno mille volte dei check sul set sia del beauty che della sua immagine ma anche poi per produzione quindi sia dello script che del trattamento più l'artista è grosso e più ci sono dei passaggi da rifare certo e quindi sotto certi punti di vista infatti si riesce a creare prodotti molto più interessanti con artisti indipendenti anche se il budget è più ridotto perché molto spesso per un artista pop è fondamentale la sua immagine e purtroppo ci sono pochi artisti pop in Italia che riescono a portare un'immagine interessante come all'estero ti faccio un esempio di The Weeknd se ti va a vedere i suoi videoclip di un check dell'ecologia che ha fatto è un artista pop conosciuto in tutto il mondo che però porta davvero un'estetica che è pazzesca nel senso non ha paura di mostrarsi e di mettersi in gioco no? E lì cosa pensi che sia la differenza? La produzione l'artista la visione il regista lì sicuramente fa la differenza dall'artista perché per fare video di questo genere non esiste che la measure per esempio ti chiamo un regista e fai carta bianca il regista scrive questo e poi The Weeknd lo fa lì The Weeknd che probabilmente scriverà o comunque si farà con il management e dice guardate ragazzi voglio fare questo tipologio di video un po' creepy ma comunque un'estetica appagante con quella grana giusta facciamone tre troviamo un regista che ce li segua tutti e facciamoli quindi lì in primis è il regista ma infatti anche i miei lavori i migliori che ho fatto secondo me sono proprio quelli dove l'artista dà un qualcosa ok? quindi non si limita a dirti fai quello che vuoi oppure c'è da fare questo ma c'è uno scambio continuo quindi per dirti un un Mekna c'è sempre stato scambio con lui un To c'è sempre stato molto scambio un Vegas Jones sempre tantissimo interessante come artista Mekna peraltro è molto interessante perché lui arriva dalla arriva dalla grafica nel senso che ha sempre fatto musica ma c'è un percorso parallelo di grafica quindi sicuramente c'è una cultura visiva che dà un valore aggiunto al video nel senso che c'ha quella capacità di riconoscere se un prodotto sperimentale è effettivamente funzionale e di qualità rispetto magari ha della fuffa quindi lui per tanto tempo si è fatto anche le copertine dei dischi non so se le fa ancora però per tantissimo tempo lo sa ma lui tra l'altro tuttora fa grafica a livello nazionale internazionale di dischi cioè è molto è molto quotato e molto bravo lui ok e beh quindi questa collaborazione con l'artista è interessante e ti è capitato di lavorare continuativamente solo con un artista cioè a un certo punto quest'artista ha deciso che tu fossi il suo regista e l'hai seguito per sempre tra virgolette sono più estemporanee le cose allora dipende dipende sempre però sicuramente allora parlando di artisti pop ti dico Federica Abate che è una delle migliori autrici italiane scrive canzoni per davvero chiunque hit radiofoniche e la sua carriera invece da solista si è affidata moltissimo a me quindi tutti gli ultimi suoi tre quattro videoclip li ho sempre seguiti io lei non è super produttiva quindi fa uscire poche cose però lei si è affidata a me completamente perché mi piace il modo in cui gestisco il video altri artisti sicuramente sono Vegas Jones e Mr. Rain con Mekna poi c'è stata una cosa continuativa nel senso che gli ultimi due video glielo ho fatti io quali sono gli ultimi due video che sono usciti su AI di Mekna allora Fuori della città che aspetta che è quello quello dell'auto della macchina sì bellissimo quello molto bello molto interessante Mara Sattei che non so se sei presente qual è ti lo consiglio perché è super fotografico ok questi sono i video più fotografici che ho fatto nella mia carriera e che tra l'altro è l'artista secondo me italiana femminile più interessante degli ultimi anni e con lei c'è questo rapporto di continuità nel senso che un giorno la sua etichetta mi ha contattato e mi fa guarda creiamo questo team tu Simone Furlan come styling e Assia al make up quindi questo team di immagine abbiamo costruito questa sua estetica che è super super particolare e abbiamo già fatto due lavori insieme adesso finita la quarantena molto probabilmente si penserà al terzo però questo è proprio un esempio di rapporto continuativo super qualitativo tra l'altro tra l'altro credo che sia difficilissimo sì da una parte mettere il tuo stile dall'altra non essere la fotocopia di te dell'altro video quindi come dire ricucire l'immagine giusta sull'artista allora esatto nel senso che io sono molto poi autocritico se i miei lavori mi piace spaziare sempre in ogni genere nel senso che a volte faccio dello storytelling puro a volte faccio dell'estetica libero interpretazione a volte faccio più tutto close up quindi spazio spesso però ho sempre notato che c'è sempre questa mia firma che la gente riconosce però per adesso non penso ancora di essere arrivato in quel momento in cui mi vado a imparanoiare penso che ma sono la fotocopia di me stessa sono la mia stessa parodia per adesso sono ancora in una fase molto prosperosa forse di idee perché riesco davvero a a creare varie cose su vari artisti forse quello più interessante è l'ultimo di Gaemon che ho fatto quale? quello che ho fatto di Gaemon che è in un certo qual modo ok sì 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 quello è molto interessante perché è proprio un videoclip che unisce estetica e narrativa e nella prima parte c'è lui che fa del playback normalissimo incastrato in alcune geometrie e nella seconda parte diventa uno psicoterapeuta di coppia e quindi lì tu gli dai sia la parte di estetica interessante quindi dici ok lui è un artista fresh se la balla preso bene e dall'altra però ti esce un po' fuori quella parte umana attoriale che anche quel pubblico più interessante anche la parte di pubblico più interessata a Gaemon non solo come performer dice ah ok interessante quindi si è un po' unito dello storytelling a dell'estetica e questa cosa qua si fa molto all'estero quindi far recitare dei ruoli all'artista si fa molto anche in Italia e lo si fa molto bene nell'indie nel pop questa cosa qua non si fa ancora bene purtroppo quindi il fatto di far recitare o performare l'artista in un certo modo senza che sia scontato che sia sempre il solito playback di lui fermo davanti alla finestra per dirti certo in questo il mondo rap è un po' una fucina di idee comunque c'è molta sperimentazione come ambito mi pare sì diciamo che il videoclip rap secondo me ha fatto esplodere tutto quello che erano i preconcetti dei videoclip in Italia il videoclip forse ha portato quella voglia di fare in Italia soprattutto perché lo potevano fare chiunque c'è chiunque da fare il videorep tu c'hai l'amico che rappa io faccio il video ti puoi mettere in gioco quindi sicuramente ha dato questa grinta alla nuova generazione e invece secondo me la scena indie italiana ha portato una ventata di aria fresca a livello autoriale di videoclip ci sono certi videoclip indie che sono fatti molto bene e portano una visione che fanno anche ben sperare a un futuro cinematografico quindi ci sono un po' queste due branche italiane di questa nuova ondata new wave come vogliamo chiamarla di regia ecco a proposito di cinema quanto il mondo del videoclip è vicino al mondo del cinema quindi quanti sono i punti di contatto e quante invece le differenze invalicabili cioè che oltre a quelle non riesce ad andare con un videoclip allora sicuramente quest'anno ci sono due esempi di registi che sono andati al cinema partendo dal videoclip e sono Lettieri e Jonaz che sono la coppia dei registi e loro sono andati al cinema passando direttamente dai videoclip quindi questa ti può far capire quanto effettivamente il mondo dei videoclip abbia influito e spezzato un po' le vecchie catene del cinema arcaico in Italia è un mondo sicuramente da un punto di vista distante ma vicino ci sono tanti controsensi nel senso che tutto il cinema in Italia è praticamente a Roma la parte musicale invece è a Milano ma si crea sempre questo dialogo tra le parti ci sono chiaramente registi più improntati allo storytelling che quindi tu li vedi e dici ok loro fanno cinema altri artisti invece più improntati su un'estetica narrativa hanno una libera interpretazione però non so effettivamente quanto poi un regista che sappia fare una narrativa nei videoclip possa essere efficace nel cinema e uno invece che si cura più l'estetica possa essere efficace nel cinema perché comunque si parla sempre di tre minuti tre, quattro, cinque minuti la narrativa è ridotta è asciutta un film dura più di un'ora un'ora e venti due ore tre ore quindi è diversissimo di approcciarsi a un film rispetto a un videoclip magari c'è un regista bravissimo nello storytelling breve quindi ti fa la storia geniale in tre minuti e c'è invece un regista che non riesce a esprimere in tre minuti quindi preferisce non fare dello storytelling convenzionale ma sperimentare in altro ok chiaro poi appunto speriamo la cosa che si spera è che adesso che Netflix arrivi in Italia e che riesca a dare un po' di respiro all'Italia a livello di serie di film quindi vengono prodotte cose più interessanti questa è un po' la speranza non sapevo perché Netflix arriva in Italia come produzione in teoria sì nel senso che non è ancora certo però sta producendo tantissime cose italiane quindi c'erano in programma tante serie tra l'altro appunto sia il film dei Yonaz che di Lettieri sono prodotti da Netflix è iniziato questo dialogo e infatti si spera che si sposti in Italia e inizi un po' a investire in storyteller italiani e chissà magari si riprenderà una nuova era di cinema italiano non si sa ma speriamo sicuramente ci sono un sacco di talenti soprattutto insomma che magari non sono sotto le luci dei riflettori e poca gente conosce che però nel loro settore invece sono molto riconosciuti e importanti quanto ha influito cioè allora innanzitutto quanto ha influito la fotografia nel tuo fare il regista cioè lo studio della fotografia proprio come come materia diciamo anche in quei sei mesi ma poi penso che comunque tu abbia fatto un percorso anche prima e dopo quando hai influito sul tuo lavoro di regista oggi allora ha influito parecchio e penso che questa cosa qua poi venga fuori in certi videoclip soprattutto come quello che ti citavo di Mara Sattei penso che poi ci sono tanti fotografi che hanno anche influenzato la mia visione e quant'altro però la cosa che mi contraddistingue un po' di più che in tanti mi hanno fatto notare è che non sono troppi in Italia a curarsi sia la regia che la direzione della fotografia quindi sicuramente avrei fatto fotografia prima ma dato la possibilità e la capacità critica e tecnica di velocizzare un processo quindi io da solo facendomi la fotografia su set non ho bisogno di un direttore a fotografia che me la faccia per me e quindi si salta quel processo che dici ah ok questo non va bene questo invece va bene quindi si salta un po' quei tempi morti diciamo che poi comunque nel commercial lavoro con il direttore della fotografia quindi devo per forza interfacciare però nel videoclip che è un po' più di getto un po' più artistico ti lascia più andare dal mio punto di vista è molto 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 più facilitante che io mi faccia la fotografia quindi ha sicuramente influito a livello visivo mi ha allenato la vista l'occhio e arrivo sul set già sapendo la tipologia di inquadratura che voglio fare le luci che userò uno schema luci ho già tutto in mente se dovesse lavorare con un direttore della fotografia probabilmente non sarebbe così naturale ma lui darebbe una sua visione chiaramente non va un direttore della fotografia bravo non va ad eseguire solamente il compitino mette qualcosa in più di suo chiaro e quindi sicuramente in un futuro inizierò a collaborare con vari direttori della fotografia anche nel videoclip però prima che questo accada bisogna formare un rapporto umano nel senso che non penso che inizierò a lavorare con qualcuno su videoclip prima che non ci sia una fiducia reciproca quindi anche se a me riuscire a bere una birra insieme un caffè ti becchi dici due parole ti senti una chiamata si crea un rapporto ci si manda un po' di reference a me piace questo a me piace questo dopo ci si connette quindi si crea un po' la connessione e capisci che allora potrebbe essere un valore aggiunto a livello tecnico allora dici ok sì diamo in mano la fotografia a lui però per adesso ho sempre avuto questa tendenza di curarmi da solo le immagini quindi sicuramente il background fotografico mi ha preparato a livello tecnico affinché io riesca a gestire un po' la mia visione e creare una cosa che sia effettivamente mia a 360 gradi magari sbagliata sotto certi punti di vista tecnica è sbagliata ma magari è quello sbagliato che dà quel valore aggiunto ok certo e quali sono invece visto che hai comunque scattato e scatto ogni tanto qual è la differenza sostanziale che tu vedi e che ti ha fatto propendere per il video rispetto alla fotografia allora nel senso che c'è una cosa fondamentale che è il movimento nel senso che la fotografia tu vai ad immortalare l'attimo che sia poi documentaristico o retrattistico di composizione tu scatti e lo porti a casa invece il video la cosa che mi piaceva di più era il fatto di poter mettere in movimento persone e soprattutto il dinamismo che puoi dare ok creare ma anche creare dei tableau vivant quindi delle immagini comunque in movimento non lo so il movimento mi ha sempre attratto ma anche se tu pensi immaginati una ripresa frontale di un attore che sta camminando in una galleria quindi tutte le luci una sopra l'altra tu quando cammina vedrai sempre la sua faccia che passa in un chiaro scuro quindi ombra-luce 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 quindi è tutto più animato è tutto più tridimensionale puoi esplorare lo spazio puoi creare delle connessioni quindi è sempre tutto questo che mi ha portato a intraprendere la strada a video ok chiaro quindi come dire la vicinanza la necessità anche di avere del movimento esatto diciamo che appunto la fotografia mi era stretta cioè non sono mai riuscito a vederla troppo come uno strumento di espressione sono sempre stato un tipo molto molto dinamico iperattivo quindi sicuramente il movimento in sé mi rappresenta molto di più della fotografia poi scatto perché a me piace proprio scattare a volte mi rilassa hai capito è anche un esercizio zen quasi scattare capisco quindi al di là dei tuoi spunti fotografici appunto dalla fotografia dalle esperienze che hai fatto dove ti ispiri c'è qualcosa che fai per come dire assimilare nuove idee nuovi punti di vista nuove visioni allora assolutamente io sono molto appassionato sia di rivisti che poi di libri quindi di fotografia e quant'altro e la fonte primaria possono essere questi la fonte secondaria vabbè è sicuramente youtube e vimeo e la fonte terziaria sono i servizi di streaming a pagamento quindi un chili o un netflix se voglio vedere un film in particolare vado a cercarmelo poi io ho tanti artisti tanti registi che hanno influenzato la mia estetica che più di altri prediligo ma come tanti altri registi cinematografici quindi diciamo che poi nella mia memoria visiva sono tutte cose che magari io oggi mi guardo un videoclip mi piace tantissimo poi magari me ne dimentico e fra due anni butto giù un'idea che leggermente ha quel profumo di quel video che è rimasto con il mio subconscio no? immagazzino tantissimo nel senso che guardo di ogni sia delle cose russe giapponesi tedesche che sono super attraverso dal mondo francese e quindi guardo tantissime cose e queste cose qua poi rimangono immagazzinate e magari in un futuro vengono fuori non sono uno di quelli che magari prende proprio reference tipo nei miei trattamenti script non ho mai inserito video reference link cose attive vado più per immagini vado anche magari a ritagliare pezzi di giornale fotografo un libro ma anche l'architettura per dirti in molti miei video parlano di architettura parlano il linguaggio dell'architettura rapporto poi soggetto spazio spazio davvero in ogni tipologia di genere per andare a trovare ispirazione poi a livello fisico anche proprio musei gallerie d'arte sono luoghi che mi piace tantissimo andare a visitare quando ho tempo beh è interessante il fatto che tu quando dai una reference non dai mai un video ma dai delle fotografie è super interessante super interessante assolutamente non c'è proprio nessun trattamento nel quale ci sia un link a un video ma sono solamente fotografie ma anche per dirti palette colore nel senso che a volte metto un pezzo d'erba e dico questo cioè vado a fare magari una ricerca di prati non vado mai a mettere cose video perché mi influenzano troppo cioè si va a creare una sorta di rubamatic o di collage video che poi vederli tu dici ti influenzano troppo preferisco avere delle fotografie e lasciarmi poi trascinare da questo ok quindi tu poi dalle fotografie ti immagini l'immaginario lo applichi all'artista o al lavoro che devi fare e da lì sviluppi poi insomma il tuo prodotto finale è interessante ma anche per esempio se tu vuoi vederti i video di di Lazza Netflix in quel video lì non ci sono state reference né di foto né di video ma solamente dipinti ok c'è solo una ricerca di dipinti per un lato dell'ustituto della luce quindi per la luce che volevo avere in queste situazioni qua ma anche per le composizioni quindi quello è un video consiglio di andare se avete tempo andatevi a vedere sia Netflix che i due video di Mara Sattei uno fatto a Parigi e l'altro fatto in Marocco quelli sono molto interessanti dal punto di vista fotografico bello e tutti ti diranno ah che bella la vita di uno che viaggia così tanto quando sei in viaggio hai tempo per visitare i posti in cui sei o no? mai stato io allora con la fortuna che ho davvero nel mio lavoro ho viaggiato tanto sono stato per lavoro mi sono fatto Los Angeles l'Irlanda Turchia Marocco Parigi Spagna Islanda ho fatto davvero tanti posti però non hai assolutamente il tempo per visitare nulla cioè anzi tu pensa che l'unica volta che mi l'avevo presa con calma era Los Angeles arrivavo un giorno prima appunto per stare un po' più easy ma hanno cancellato tre voli per il maltempo quindi sono arrivato in jet lag distrutto dormito il giorno dopo abbiamo girato con la produzione americana quindi cioè l'unica volta che potevo avere un po' di respiro mi hanno stroncato quindi non visiti nulla ok chiaro immaginavo peraltro è stata una domanda retorica tu sei giovanissimo cosa consiglieresti ai giovanissimi che si approcciano a quali vedi essere il loro errore più tra virgolette comune ecco alcuni consigli hai già dato all'inizio però se vuoi aggiungere qualcosa diciamo che la cosa con un dato è che c'è un po' di confusione in Italia perché il mondo del videomaking è un mondo nascosto nel senso che non ci sono non è un lavoro che conoscono tutti è anche difficile magari spiegarlo ai genitori o alle persone che ti stanno vicino e dai incredibilità vero quindi sicuramente c'è da farci un esame autocritico e e capire le nostre necessità quindi io sono un ragazzo ho finito il liceo cosa devo fare ho bisogno di un'infarinatura voglio fare cinema voglio fare pubblicità bisogna innanzitutto capire cosa si vuole fare perché se si vuole fare cinema e tu vuoi fare solo quello per forza di cose secondo me ora come ora in Italia un'università è fondamentale per capire le dinamiche filmiche magari se tu puoi fare cinema vai a Roma dico per tutte le altre persone invece che vogliono intraprendere un percorso sia di filmmaker o di regista pubblicitario videoclip che poi può arrivare al cinema sicuramente il consiglio è di iniziare a guardarsi intorno e di non preoccuparsi se non abiti a Milano se non abiti a Roma anche se abiti in una provincia io abito in provincia mi sono poi spostato a Milano però la prima cosa che ho fatto è guardarmi intorno e realizzare il fatto che tante attività hanno bisogno di un video tante attività hanno bisogno di un'immagine ci sono sicuramente artisti che hanno bisogno di un video quindi iniziare a provare a tastare il territorio soprattutto confrontarsi costantemente con la concorrenza quindi tu da ragazzo di 19 anni guardati intorno guardati intorno a qualità della tua età cosa stanno facendo a che livello sono sii obiettivo e cerca di alzare sempre il livello e di non circondarti di persone che magari sono nocive proprio per il tuo lavoro cerca di stare sempre a un buon livello sempre teorico e pratico punta in alto è la prima cosa da fare poi dopo che sei conscio di aver raggiunto un livello alto o comunque a livello tecnico e teorico cerca di proporti in grandi città chiaramente tu finché sei in provincia hai una clientela e concorrenza di provincia nella città sono in 10.000 fare il tuo lavoro quindi cerca di entrare pian piano in altri circoli è tutto un passaparola poi questo lavoro qua perché se tu lavori bene con un cliente lui stesso andrà poi a parlar bene di te quindi è sicuramente fondamentale la comunicazione la precisione la professionalità nella quale svolgi il lavoro una cosa è evitare assolutamente sono i ritardi sulle consegne i ritardi sui set si professionale nel senso che questo è il primo consiglio che do assolutamente tra l'altro è interessantissimo il discorso di cioè quando tu hai detto che questo lavoro è tutto basato sui contatti e è uscito tantissimo nelle interviste che ho fatto questo concetto perché tanti pensano che sia il talento questo e quell'altro ma la realtà è che poi il talento se non è un'occasione di dimostrarlo rimane in tasca è anche vero che però nel momento in cui hai l'occasione devi saperla sfruttare e tante occasioni non sono travestite datali perché magari tu fai un lavoretto piccolino e dici vabbè io spesso mi è capitato di sentire magari ragazzi o amici che dicevano ah sì vabbè ha fatto questo lavoro sì però mi paga un poco lo faccio la svelta e però cioè non funziona esattamente così no? è sicuramente un lavoro il nostro nella quale bisogna essere imprenditori di se stessi e quindi capire bene quando è il momento di guadagnare a livello pecuniario e quando è il momento di guadagnare a livello artistico e di contatto nel senso che magari c'è il lavoro in cui tu guadagni bene lo fai per pagarti l'affitto e te lo porti a casa e il lavoro invece magari in cui non c'è tanto budget che però magari intorno c'è un marasma di gente che potrebbero portarti altri lavori enormi quindi è un talento anche questo secondo me il fatto di riuscire a capire quali sono le occasioni in cui bisogna investire e quali sono invece le occasioni in cui bisogna pensare di più al guadagno piuttosto rispetto al prodotto artistico in sé certo e poi credo sempre che in un lavoro creativo il lavoro parli del creativo certo anche se ti pagano poco vabbè a parte che se hai accettato il lavoro che ti pagano poco l'hai accettato tu mica io cioè nel senso avrei deciso di prenderlo e nel momento in cui lo prendi comunque devi sempre tenere alto lo standard perché poi qualcuno lo vede e non sa quanto ti hanno pagato per farlo sa solo che il lavoro è tuo assolutamente infatti è sempre difficile soprattutto quando mi ricordo quando facevo un videomaking mantenere uno standard sempre alto perché ci sono lavori che comunque ti ispirano più di altri ed è difficile davvero magari non lo so c'hai l'artista rap che ti ispira e ti dà libertà e poi c'è l'artista invece pop che non ti ispira il budget però lo stesso il risultato è difficilissimo che sia lo stesso perché è proprio un dare per ricevere a volte infatti la cosa problematica è che appunto poi il pubblico non sa quanto effettivamente è costato quel lavoro come dici te c'è sempre questa incognita quindi devi sempre riuscire a dare il massimo per ogni lavoro chiaro il fatto che tu sia così giovane come l'hai gestita perché io leggevo un libro l'altro giorno che è molto in linea con quello che mi dicono tante persone che mi seguono e ci sono quelli che si lamentano perché sono troppo giovani e quindi dicono nessuno mi dà detta perché sono troppo giovane e quelli che si lamentano perché sono troppo vecchi e quindi dice no ma non riesco più a reinventarmi alla fine ognuno si sente sempre metà sbagliata o per iniziare o per farsi valere in qualche modo tu che sei molto giovane come l'hai gestita questa cosa? Guarda io questa cosa qua tuttora la devo affrontare su certi lavori nel senso che più vai avanti più i budget aumentano e più devi avere una certa credibilità e quindi sicuramente essere giovani soprattutto in Italia può essere un fattore a tuo sfavore soprattutto in America ci sono tantissimi registi di 23, 24, 25 anni che curano campagne mondiali ma sicuramente si arriverà anche in Italia a questo punto qua ne sono convinto perché ora arriverà la generazione ancora più giovane di me e saranno tutti super creativi quindi sicuramente ci sarà una una rigenerazione di mentalità il nostro è un lavoro che secondo me è senza tempo nel senso che ho conosciuto anche tanti registi che hanno iniziato a lavorare a 30 anni c'era gente che anche lavorava in alimentari e poi ha deciso di investire tutto su se stesso ci ha creduto tantissimo ed è riuscito a reinventarsi quindi su me sta molto nella forza di volontà e soprattutto nell'avere una forza interiore che ti spinge a farlo se tu hai davvero una passione fortissima e vuoi farlo sgomiti arranchi e fai mille sacrifici per fare questo lavoro qua nel senso che io poi quando ero giovanissimo anche ai tempi del liceo ricordo che per fare certe cose mi privavo un po' della vita sociale anche no magari c'erano le sere in cui non uscivo i pomeriggi in cui non uscivo mi richiede un attimo in casa per lavorare su queste cose qua bisogna essere molto focus poi sicuramente essere sia super giovani che super vecchi tra virgolette è sempre uno svantaggio e tutti vorrebbero prendere il treno al momento giusto però penso che con con la buona determinazione si possa riuscire a fare tutto se ti fai un bel piano e ti lasci ispirare c'è questa forza interiore che ti spinge secondo me si riescono ad avere buoni risultati a qualsiasi età grande mi viene in mente De Ferros due ragazzi che ho intervistato sono due fotografi matrimonialisti e loro hanno iniziato relativamente tardi cioè intorno non so ai 30 anni adesso non ricordo esattamente l'età però più o meno così in due o tre anni e loro fotografano di professione da pochissimo due o tre anni eppure si sono affermati lavorano in tutto il mondo sono alcuni tra i più premiati è incredibile ma io penso io penso che appunto c'è addirittura l'età magari tu inizi a lavorare a 30 anni e se tu inizi a lavorare esplodi di idee perché tu comunque hai 30 anni di 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 passate di vita che magari hai bisogno di far esplodere e magari non porti adesso poi non lo so magari però non porti a casa rispetto tecnicamente perfetto magari come altri colleghi che lo fanno da 20 anni però porti della genuinità idee diverse che non hanno gli altri no e quindi ci sono anche il giovanissimo di 16 anni magari porta una visione che io guardo e dico vabbè tecnicamente non è un granché però cazzo ci sono cose davvero interessanti dentro no quindi ogni età ogni età porti qualcosa con sé ecco forse la cosa rivolta ai giovanissimi è questa che io ho visto anche nella fotografia che ci sta che essendo in un mondo molto veloce cioè in cui tutto è subito alcune cose invece non vanno date per scontate quindi comunque studiare un po' fare un po' di ricerca studiare anche in altri ambiti come per esempio la fotografia come hai fatto tu insomma prepararsi ecco non arrivare impreparati secondo me è una delle ricette fondamentali ecco assolutamente perché tu sei giovane cioè la gente è partita dal concetto che quando si è giovani ci si sente sempre dei supereroi che hai sempre ragione su tutto sono gli altri che sono vecchi e quant'altro quindi c'è sempre questa visione un po' distorta del mondo poi è anche vero che la nostra generazione ha rifiutato un po' anche la gavetta e quindi lo siamo visti benissimo poi anche dai più anziani quindi sicuramente l'arma a nostro favore è il fatto di potersi fare una cultura sia online che studiando poi l'università perché abbiamo delle armi e disposizioni che prima non esistevano assolutamente nel senso che se tu sai usare un motore di ricerca e hai la voglia puoi imparare tutto ovviamente ti infarini no? non è che impari i segreti del mondo però le opportunità per migliorare e cambiare ci sono e sono aperte a tutti assolutamente poi online è davvero un enciclopedia ma guarda mi viene in mente questo ragazzo Enrico mi sfugge il cognome in questo momento comunque Enrico Tech ha un canale YouTube e una volta io praticamente da un annetto faccio delle sfide mensili no? in cui sostanzialmente una persona deve postare una foto inerente a quell'argomento cioè farla nel mese e poi postarla e allora poi commento queste foto e insomma vabbè fatto sta che un giorno sono andato in live con questa persona con questo ragazzo e mentre aspettavo nel backstage come abbiamo fatto noi no? che arrivasse ero in cucina un attimo e sento che arriva e sento ciao allora mi affaccio guardo e faccio ciao tuo fratello non c'è ancora sono io come sei tu e tipo lui è un ragazzino avrà non so 12-13 anni una roba così ha un canale YouTube una proprietà dialettica incredibile un modo di esporre di presentarsi incredibile ovviamente lo vedi è ancora da maturare no? non potrebbe essere altrimenti sarebbe inumano però una potenzialità cioè è proprio quando come dire il talento in qualche modo comunque ma non è anche il talento la predisposizione incontra le possibilità e allora lì si aprono mille porte no? giovanissimo davvero giovanissimo che è più o meno quando hai iniziato tu alla fine perché più o meno insomma anche tu avrai iniziato più nella qualità no? assolutamente no no ma le nuove generazioni sono pazzesche ma poi c'è c'è una ricerca anche sociologica che spiega che il tempo poi all'epoca all'era del web va tre volte forte rispetto a prima quindi un anno sono tre anni praticamente c'è uno sviluppo tecnologico digitale che è frenetico quindi devi tutto moltiplicare per stare al passo con le cose non perderti niente e tu progetti futuri? progetti futuri allora ora come ora sicuramente uscire dalla quarantena e tornare a lavorare come prima sperando che si possa quindi nel futuro prossimo continuare con l'attività che sto facendo allargare un po' la cerca di clienti e alzare sempre di più la mira a me piacerebbe tantissimo poter girare qualcosa con Netflix magari di mio ma ti dico tra anni magari una serie o un film nel senso che il punto d'arrivo poi è quello che sia poi appunto Netflix o un'altra produzione il mondo del cinema mi piace tantissimo e si vede e chissà magari è più una mia produzione indipendente non lo so sicuramente l'obiettivo primario finale è il cinema ok e ora come ora andare avanti sempre su questa strada di commercio a video musicali perché sono quelli sono il mio linguaggio di adesso mi esprimo bene con questo e quindi voglio arrivare al livello più alto che posso con questa tipologia di linguaggio ok allora Tommaso Ditta Traglia ti chiede come ti è venuta l'idea del video di fuori dalla città quel video per quanto semplice è assurdo grazie allora è una una storia strana perché praticamente un giorno allora descrivilo un po' il video per chi non l'abbesse visto allora è un video totalmente fatto in studio nella quale c'è Mekna che fa un playback all'interno di questa Mercedes vecchia sulla quale sono puntati vari proiettori che proiettano immagini di una ragazza su quest'auto fine e poi alla fine e poi c'è la parte finale dove ci sono delle grafiche fatte da Mekna tempestose per la parte del synth più aggressivo è un video molto semplice che però a livello invisivo spacca particolarmente e ha una storia curiosa nel senso che un giorno mi ha chiamato Mekna e mi ha spiegato che lui ha presente contattato questa ragazza francese che è la ragazza che avete nel video e tutta estate lei praticamente ha generato questi video con aiuto di amici o quant'altro di lei che fa cose e mi fa la mia idea principale era di far uscire un video di questi queste clip montate tra di loro l'ho provato a fare mi fa che è una merda perché se mi hanno fatto un video già usciti mi fa abbiamo bisogno di una mano per capire come farli uscire sul video però in modo che non sia sempre la solita roba allora io questo pezzo a parte che mi piace tantissimo di Mekna e lo ascoltavo tantissimo in macchina ero sempre in macchina da ascoltare questo pezzo qua allora il giorno che mi ha chiamato mi è venuto subito in mente perché la prima cosa che mi ricordava era la macchina cioè mi ricordava davvero questo viaggio fuori dalla città la pioggia il tempo le strade quindi mi ricordava molto questo concetto di viaggio e ho detto prendiamo quest'auto la mettiamo in uno studio e ci proiettiamo sopra mi hanno fatto arrivare dei miei amici che fanno light mapping 5 proiettori diversi nello studio tutti completamente sagomati quindi avevano tutta la forma della macchina ogni pneumatico era ritagliato il cofano era ritagliato tutto 5 proiettori che andavano a proiettare la storia di questa ragazza e quindi si è creato un po' questo video tecno malinconico perché comunque è una base super elettronica la voce malinconica il visual parla molto con il linguaggio tecnico visivo del light mapping e quindi abbiamo creato un po' questa sorta di viaggio di mechna di lui in questa macchina che tra l'altro si gira sempre indietro perché è come se stesse parlando con un passeggero e non si vede mai questo passeggero tra l'altro interessantissimo tra l'altro quel video lì è davvero pazzesco grazie ma prima tu dicevi che nel rap cioè tu sei arrivato al rap senza ascoltarlo e adesso però mi hai detto che ascolti mechna allora vabbè mechna non è rap ok allora ti dico io ho il conto che ho iniziato a scusami se ti ho interrotto ma faccio la precisazione ho iniziato a lavorare con il rap a 14 anni e io non ascoltavo rap ok e lavorandoci io come se avessi dato qualcosa a questa cultura e questa cultura avessi dato qualcosa a me quindi adesso ascolto tantissimo rap ah ok ok che era quindi ti hanno fatto convertire in qualche modo insomma assolutamente ho capito e prima non l'ascoltavo nel senso ho capito proprio la cultura ho imparato a capire i testi certo l'ultima domanda che l'ho tenuta insomma in canna fino adesso quanto è importante per una canzone di successo un video altrettanto di successo allora dipende sempre da da che artista si parla ti faccio un esempio di Drake per dirti il video che tutti conoscono che è quello di Hotline Bling di lui nello studio e in quel caso il video ha è andato di pari passo con la canzone perché ha fatto partire un trend di Drake che balla super casual in questo studio un balletto che tutti potrebbero ballare e quindi ha questo significato popolare potentissimo e altri video che ho fatto io stesso hanno contribuito al successo della canzone e quindi dico un dipende perché ci sono pezzi che davvero a volte vanno fortissimo anche senza bisogno di un video e altri pezzi che con il video hanno una marcia in più ad esempio per dirti né Robali né l'esempio perché Elodie arrivava da un momento un po' di rottura della sua carriera precedente e con questo video qua ha rilanciato un'immagine totalmente diversa rispetto a prima ed è stato un po' il portavoce della sua nuova immagine questo videoclip oppure anche rispetto al pubblico che hai per esempio un Mr. Rain quando è uscito Ipernova che è un video che ha fatto 50 milioni di utilizzazioni sai che è un pubblico super teen che magari Spotify non se lo può permettere un video del genere di facile interpretazione ma fatto bene a livello visivo sai che ti porterà un introito visivo enorme quindi dipende davvero da tante cose sicuramente c'è uno studio poi anche di marketing rispetto al pubblico che un artista ha certo è interessante perché credo che comunque da un certo punto di vista vada di pari passo però è vero anche che tu mi è piaciuto quando hai detto non tutte le canzoni hanno bisogno di un video o di un video forte mi viene in mente non so se le viste ma sicuramente le serie di video di Jaime che è questo rapper in cui ha fatto una serie di canzoni in cui c'è solo una un'inquadratura e basta assolutamente e niente più ma ti dico allora questa tendenza qua penso sia adesso lui lo conosco di persona anche conosco bene questo suo progetto che sta facendo il perché lo sta facendo così ma ho una mia teoria e nel senso che YouTube ha perso tantissimo negli ultimi anni quindi gli ultimi due o tre anni le views sono calate a picco su YouTube dei video musicali quindi non c'è più questa esigenza come prima nel senso che prima era il il mezzo numero uno che veicolava la canzone YouTube e adesso non lo è più adesso è Spotify il mezzo numero uno basta pensare che per esempio Gaemon ha su YouTube delle medie di video bassissime ma se vai a vedere su Spotify invece sono molto più alte l'altro giorno ma come per dirti anche anche Mechna ha delle visual che magari non sono altissime però poi a livello fisico quindi concerti streaming merchandising fa tutto sold out beh banalmente guarda non so anche Giovanotti piuttosto che anche i grandi artisti Tiziano Ferro Elisa che non hanno tutti questi numeri esagerati rispetto poi a quanto riempiono quando si muovono esatto è per questo che ti dicevo che quando si va ad agire su un video quando si ha la canzone forte c'è uno studio comunque di marketing e di pubblico e per capire se effettivamente questo video c'è da indirizzare a questa tipologia di pubblico perché sai che magari il ragazzino comunque fascia età 12-18 anni ma anche 8 in verità ormai sono 8 anni se non andare su YouTube cliccherà tante volte sul video oppure se è un prodotto di magari un prodotto premium per un pubblico con una certa come si può dire capacità critica o mentalità magari se lo vede una volta e poi non se lo vede più certo chiaro allora beh grazie mille perché è stata una bellissima intervista super interessante nel mondo video che in qualche modo mi ha fatto sentire un po' la nostalgia del video in qualche modo in qualche modo lontano però perché non tornerò al video perché già la fotografia è un delirio figurati se mi metto pure a fare video non mai capo più o tra l'altro ho grandi amici che fanno video molto bene quindi mi appoggio a loro se ho bisogno e di solito chiudo con le tre domande quindi sono tre domande molto semplici in realtà allora la prima è un libro che consiglieresti ok allora un libro che consiglierei ma posso consigliare anche un libro di fotografia o un libro scritto quello che preferisci o se vuoi consigliarle uno e uno così non ci facciamo mancare niente va bene allora io consiglio a livello di libro fammi pensare perché ne ho davvero tanti che mi hanno colpito guarda a livello di fotografia ti sparo quello di Renang ok di scrittura la meglio gioventù di Pasolini ok beh cioè insomma dei titoli no però poi invece mi sento anche di consigliare a tanti registi ok che in tanti mi chiedono mi chiedono libri sulla regia la UCLA a Los Angeles fanno tantissimi corsi se andate sul loro sito ci sono tutti i libri di testo quelli sono i migliori libri di regia di direzione della fotografia che potete trovare in commercio quindi su quelli sono i migliori libri da andare a leggere ah quelli che ho studiato sono libri che mi hanno un po' cambiato il modo di vedere la regia la fotografia però non sono niente a che fare poi con la magari mia ideologia di certe cose o quant'altro certo poi invece un film o una serie tv che consiglieresti? beh qui allora serie tv Twin Peaks assolutamente ok non so dov'è Netflix non so Twin Peaks no Twin Peaks si può vedere allora o su Nao TV mi sembra oppure si può comprare il cofanetto che si trova a prezzo non mai stracciato è una serie di anni 90 ed è considerata una delle migliori serie mai fatte di David Lynch ok è un film un film da vedere forse Kids di Larry Clark sì Kids di Larry Clark non ce l'ho presente ok è bello perché io mi sto prendendo tutti i titoli di tutte le interviste e mano a mano me li sto guardando capito? una serie e l'ultima attenzione questa è quella che mette in crisi tutti ed è bello perché non le dico mai prima agli ospiti così arrivano qui preparati mi piace un oggetto sotto i 10 euro che pensi possa essere interessante per un videomaker in questo caso per un videomaker un oggetto sotto i 10 euro il lentino da direttore della fotografia è una specie di monocolo che adesso non so mai come si chiama alcuni lo chiamano puntatore te lo metti sull'occhio è come se fosse un filtro ND enorme e vedi la luce dove è puntata quindi per conto il puntamento della luce questo è fondamentale grande grande oh ma sai che questa domanda è la domanda cioè non so che mi dà più soddisfazione in assoluto perché messi alle strette sì messi alle strette le persone poi tirano fuori queste perle assolute ed è una figata meraviglioso assolutamente allora grazie mille davvero è stato un super piacere averti come ospite figurati anche per me assolutamente abbiamo aggiunto un altro pezzetto interessante a questa serie di interviste che credo che possa essere bello di ispirazione soprattutto per insomma tutti quei giovani ragazzi che si stanno approcciando al video ma non solo anche la fotografia perché poi sono due mondi come abbiamo visto che si come dire in qualche modo intrecciano molto bene e ti ringrazio per esserci stato davvero di cuore grazie mille a te mi ha fatto super piacere un abbraccio un abbraccio a tutta la chat buona giornata e a presto ci vediamo domani ciao ragazzi ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti